Abbiamo fatto una partita migliore, sicuramente rispetto a quella di domenica scorsa, migliore rispetto a quella di martedì, però purtroppo non siamo riusciti a portare gli punti per colpa nostra, perché poi alla fine abbiamo fatto noi fare gol alla Savo, con un pochimino punti e poi ancora vengono sempre in mano per il gioco, non siamo riusciti a essere concariati. Infatti molto possesso palla, però grosse occasioni per la Ternano non ne ricordo. Dobbiamo continuare su questa linea, perché questa squadra non può fare diverso niente, ha una struttura fisica per poter andare a fare la guerra con padronate unghie, però sta a me fare in modo che ci siano soluzioni che possano essere concrete e poter avere.